Domenica 28 ottobre, Santi, Simone e Giuda. È il 301esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 64 al termine. Il sole sorge alle 6 e 45 e tramonta alle 17 e 7 minuti. La luna si leva alle 20 e 8 minuti e tramonta alle 10 e 38. Galileo Galilei viene riconfermato per altri 6 anni lettore di matematica all'Università di Padova con lo stipendio di 320 fiorini annui a partire dal 17 dicembre dell'anno precedente. Le previsioni per domani. Tempo instabile e perturbato con cielo generalmente molto nuvoloso o coperto salvo possibili locali schiarite. Precipitazioni diffuse sulle zone centro-settentrionali con quantitativi anche molto abbondanti sui rilievi e pedemontana. Altrove sparse o locali generalmente più probabili e consistenti nella seconda parte della giornata con possibili rovesci e qualche temporale. Quota neve è ancora elevata, generalmente sopra i 2200-2400 metri, anche se più in alto nelle ore centrali e pomeridiane. Temperature senza sensibili variazioni.